Ma la Movida continua l'offensiva delle forze dell'ordine nelle zone di aggregazione giovanile più frequentate della Brianza, nell'ambito del piano di coordinamento disposto dalla Prefettura. Sotto la lente dei carabinieri lo scorso weekend, i comuni di Busnago e Vimercate, 24 i militari dell'arma coinvolti insieme al nucleo cinofili di Orio Alserio e alla Polizia Locale. L'attenzione si è concentrata sui locali e sulle aree Parco, nella piazzetta Guglielmo Marconi e nel centro commerciale Il Globo di Busnago durante la serata di venerdì e in Largo Europa e Piazza Marconi a Vimercate durante la serata di sabato. Lo scopo dei controlli era verificare il rispetto degli orari di esercizio, il volume della musica e la vendita di alcolici ai minori. Contessualmente sono stati effettuati vari posti di controllo nelle vie circostanti, le zone della Movida. Sabato un cane antidroga, Grom il suo nome, ha passeggiato tra i frequentatori dei locali suscitando stupore e curiosità. Mentre girava attorno ai tavoli e alle aiuole si è avvicinato a un ragazzo, dopo aver fiutato nelle sue tasche ha segnalato la presenza di stupefacenti. Il giovane non ha potuto far altro che ammettere di avere droga con sé. Trovate due dosi di cocaina dal peso di circa 2 grammi e alcuni pezzi di hashish per un totale di circa 7 grammi. Il giovane, un 23enne residente a Vimercate, è stato denunciato in stato di libertà alle autorità competenti. Nell'area parcheggio e il centro commerciale è stato controllato un veicolo con a bordo una persona che è perquisita. È stata trovata in possesso di due lunghi coltelli da cucina. L'uomo, un 51enne ricornate d'Adda, è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. In tutto sono stati controllati 43 veicoli e 88 persone, nonché 4 esercizi commerciali in cui non sono emerse irregolarità.